No, ma io volevo spendere due parole per tutte le persone non educate, per non dire altre cose, per tutte le persone mal educate che mi continuano a chiamare, che io ho messo il silenzioso per tutte le persone che non sono in rubrica e poi, come potete vedere giù, io vi blocco, quindi è inutile che mi chiamate, ok? Cioè, perdete solamente il tempo, ok? Questa è un'altra persona maleducata in cui io ho dovuto coprire tutta la serie del numero. Comunque, ragazzi, perdete solamente il vostro tempo, ok? E poi, come vi ho detto, ho il silenzioso e poi vi blocco, ok? Ciao, ciao!